Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studio Noisis. Nella puntata di oggi portiamo a fine il nostro percorso all'interno del corso di storia della filosofia medievale parlando e trattando il nostro ultimo filosofo Guglielmo di Occa, filosofo rivoluzionario che scaravolterà il tavolo della filosofia, non accetterà più i parametri filosofici che erano stati istituiti fino ad allora e che cercherà insomma di creare un nuovo impianto filosofico, quel nuovo impianto filosofico che prenderà nome successivamente di filosofia moderna. Ockham sarà perseguitato dal papato avignonese, troverà rifugio in Germania presso i principi tedeschi e gli scriverà davvero alcune opere molto importanti. Ockham non cerca di interloquire quei filosofi che erano vissuti prima di lui, ma rifiuta in blocco tutta la filosofia precedente, perché la reputa tutta fonti di errori. Per Ockham infatti l'unica verità è quella derivata dai cinque sensi, l'unica verità è la conoscenza intuitiva. Mentre la conoscenza astrattiva, cioè la conoscenza dei termini universali, e la conoscenza intellettiva, la conoscenza che l'anima ha degli stati d'animo, benessere, malessere, eccetera, sono conoscenze non certe, sono conoscenze che non garantiscono la verità. Se l'unica verità è la verità testimonianza dai cinque sensi, vediamo bene come Ockham dovesse rifiutare totalmente ogni tipo di speculazione che era stata fatta prima di lui. Pensiamo solo al rapporto fede-ragione. Ora viene scisso totalmente questo rapporto. La fede non ha più nulla a che fare con la filosofia. Dio è indimostrabile. Le dimostrazioni di Dio sono indimostrabili, perché i nostri cinque sensi non conoscono mai Dio in questa vita. E quindi, se non è testimoniato dai sensi, non può essere dimostrato come valido. Insomma, il pensiero di Ockham è un pensiero radicale. La fede da una parte, la ragione dall'altra. La critica teologica e metafisica però non riguarderà solo Dio direttamente, o le cinque dimostrazioni di Dio. Riguarderà anche la critica alla causa, la critica alla causa finale e alla causalità, causa-effetto dall'altro. O addirittura la critica alla sostanza. Insomma, la critica di Ockham sarà una critica totale, rifiuterà in blocco tutto. E il procedimento di rifiuto totale si basa però su un criterio. Un criterio che lui stesso istituisce e che si pone alla base di quello che verrà definito il rasoio di Ockham, cioè il principio d'economia. Quando il filosofo cerca una verità, cerca di speculare intorno a un problema filosofico, deve scegliere sempre la via più breve. La verità sceglie sempre la via più breve, non si perde in speculazioni. Questo stratagemma venne usato da Ockham per rifiutare in blocco Platone e Aristotele, che invece avevano creato sistemi estremamente elaborati, estremamente complessi, in cui le cause e gli effetti si susseguivano in maniera incessante. Ora invece la soluzione doveva essere la più breve possibile, la più concisa. Questa, come possiamo aver intuito, sarà poi il metodo scientifico per eccellenza. Ad esempio in biologia la natura non fa nulla a caso e segue sempre la via più breve. Insomma, Ockham mette, potremmo dire, in cantina la teologia, la metafisica, rifiuta queste scienze e crea e apre la porta per quello che sarà la nuova teoria scientifica, la nuova teoria fisica soprattutto. L'uomo dirà che Ockham non è stato creato per conoscere Dio, per conoscere le sue dimostrazioni in maniera razionale, ma la ragione dell'uomo è stata fatta per essere immersa nella natura, per conoscere le cose naturali, le cose dei sensi, le cose create da Dio, ma non Dio stesso che rimarrà sempre nascosto per Ockham. E quindi anche quando dobbiamo dare delle spiegazioni intorno alla natura, dirà Ockham, noi dobbiamo sempre prescindere dall'affidarci a una soluzione fideistica, ad esempio interpretare eventi della natura come punizioni divine, cosa che è un pensiero che sarà molto in voga fino a Voltaire, fino al 1600-1700. Ma questo pensiero troverà un risvolto anche per quanto riguarda la politica di Ockham. Infatti il pensiero politico di Ockham si appoggerà a una sorta di relativismo storico. Per Ockham infatti non esiste la città ideale, non esiste l'utopia voluta da Platone, voluta dai grandi filosofi del Medioevo e anche del Rinascimento, ma ogni Stato deve avere la forma di costituzione e le leggi che a lui gli si addicono in quel momento storico. Quindi non deve esserci l'idea che la città perfetta sia raggiungibile qui sulla terra, perché la città perfetta è nei cieli, è in paradiso, un paradiso che Ockham continuerà a ritenere indimostrabile razionalmente. Inoltre Ockham sarà il sostenitore di una separazione, la separazione tra il potere della Chiesa e il potere del papato. È interessante vedere come molti attribuiscono a Ockham la volontà di contrapporre il potere dello Stato e il potere della Chiesa, problema che nascerà dopo. Invece Ockham era molto interessato nel liberare la Chiesa dall'ingerenze del papato, che all'epoca tra l'altro era molto forte, il papato aveva molto potere, era tra l'altro papato avignonese legato anche alla sovranità francese, quindi esercitava un controllo politico sui credenti, sulla comunità dei cattolici molto oppressivo. Ockham, anche in sintonia con certe ale del francescanesimo, cercò di liberare la Chiesa, dicendo che solo la Chiesa, cioè la moltitudine dei singoli cristiani, è infallibile e detiene la verità assoluta. Mentre il papato, che all'epoca si riteneva ovviamente la voce di Dio in terra, non è infallibile, perché il papa è un solo uomo e può essere corrotto, può cadere insomma nell'eresia. Ovviamente potremmo davvero passare ore a parlare di tutte le critiche e della grande distruzione che Guglielmo di Ockham porterà all'interno di un mondo filosofico che era ormai giunto alla sua morte biologica, al suo limite fisiologico, ma ovviamente cerchiamo di mantenere la lezione sintetica, cercando di mettere in evidenza, come abbiamo cercato di fare, la metodologia su cui si muove Ockham. Ockham non andrà ad attaccare e ad interloquire coi suoi pensatori di riferimento, ma li rifiuterà in blocco. Quello che cercherà di fare Ockham è proprio quello di promuovere una nuova idea della verità. La verità non è quella che c'è stata prima di noi, ma è quella che io affermo, cioè l'impostazione empirica, che tra l'altro in Inghilterra avrà una grandissima tradizione. Dopo Ockham avremo ad esempio Hume, avremo Locke, avremo davvero pensatori straordinari che vedremo nel nostro prossimo corso di storie della filosofia moderna. Ovviamente se la lezione ti è piaciuta, se ti piace la filosofia e questo canale iscriviti, metti un mi piace al video, noi ci sentiamo nel prossimo corso in una prossima lezione. Intanto grazie mille.